Oggi è un momento di svolta per la regione Marche in quanto come assessorato al turismo e come sistema Marche daremo un grande segnale per l'accoglienza turistica diversificata e quindi il sistema bike del turismo sostenibile diventerà in futuro un'eccellenza marchigiana che darà veramente grandi risposte a tutti i territori partendo soprattutto dalle zone montane fino ad arrivare alla costa. Quindi un messaggio chiaro, un messaggio forte che dalla regione Marche parte e che per i prossimi anni vorrà essere un cluster importante per l'accoglienza turistica. È un lavoro che abbiamo percorso in questi ultimi tre anni, molto impegnativo coinvolgendo tutto il sistema della recettività anche privata ed è chiaro che da questo punto di vista tutte le iniziative che abbiamo fatto sono state rivolte proprio all'accoglienza diversificata. Ed è quella che vogliono i turisti, sia italiani ma soprattutto i turisti stranieri. Le Marche diventeranno tra le prime regioni italiane per un'accoglienza diversa e soprattutto un'accoglienza del bike. Ed è la volontà della regione Marche, dell'assessorato e dello stesso presidente inserire questo tipo di intervento turistico per rilanciare e valorizzare sempre più le zone colpite dal sisma, ma meglio direi tutte le aree interne della nostra regione perché questo collegamento montagna-mare o viceversa sarà un punto importante di ripartenza.